Cannito Uberalless potrebbe essere questo il titolo per meglio sintetizzare le trattative ormai febbrili tra le forze politiche di Barletti in vista delle elezioni comunali. Il dottor Cannito è riuscito infatti a diventare la discriminante attorno alla quale tutti gli altri, eccetto la sinistra e i 5 Stelle, devono decidere il da farsi, che in maniera neanche troppo riduttiva significa o con lui o contro di lui. Al momento egli può contare sul sostegno, oltre che dei socialisti, anche della buona politica di cui fa parte l'assessore Gammarrota, area popolare di cui fa parte l'assessore Lanotte e libertà e progresso per Barletta, emanazione dell'assessore Lasala, esponente della Puglia in più, e di altre tre liste civiche. Il suo tentativo in atto è quello di allargare questa coalizione a tale scopo. Giovedì ha incontrato il PD e i suoi alleati e ieri il senatore Damiani in rappresentanza di Forza Italia e degli altri partiti di centro-destra. E le perplessità nascono proprio su questa disinvoltura, perché Annite e i suoi sostenitori evidentemente, Partito Democratico da un lato, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia dall'altro, pari sono. Un'obiezione che cercano di superare proponendo un progetto civico. Via tutti i simboli, solo liste civiche per dar vita a una coalizione che abbia quale suo esclusivo interesse il famigerato bene della città. La sensazione di molti è che tale progetto provi a nascondere una grande mistificazione, dove ognuno dichiara di essere ciò che non è, e consenta ad esempio a tre assessori in carica in un'amministrazione a guida PD di prepararsi alle elezioni insieme alla destra e contro il PD come se nulla fosse. Il bello è che qualcuno ci sta anche riflettendo e se ciò dovesse accadere dobbiamo immaginare che una volta che, sempre ad esempio, Forza Italia dovesse diventare Forza Cannito, che Fratelli d'Italia, Fratelli di Cannito e la Lega legati a Cannito, poi i suoi referenti principali dovrebbero girare camuffati per non farsi riconoscere. Il senatore Dario Damiani, travestito con parrucca e barba finti, Stella Mele, con capelli corti, baffi, travestita da uomo, Flavio Basile, travestito da Flavio Basile. Oppure, se dovesse essere il PD ad accettare, vedremo magari Caracciolo negare di essere tale. Lei è Caracciolo? No, non sono Caracciolo, sono un civico sostenitore di Cannito, anzi mi chiamo Mennea. Potremmo continuare con l'ironia tesa a evidenziare alcune enormità. Il dottor Cannito aspira legittimamente a fare il sindaco della città, ne ha certamente le capacità, le competenze e il prestigio personale. Sarebbe il caso che ciò avvenisse nella chiarezza. Se dovesse allearsi con Forza Italia e gli altri partiti di destra, che si sappia chiaramente che è una coalizione di centrodestra. Oltretutto, per molti dei suoi, si tratterebbe di un ritorno a casa. Se invece la convergenza dovesse esserci con il PD, sarà una coalizione di centrosinistra. Non si elimina la disinvoltura dell'operazione, ma almeno ci si presenta con la propria faccia, con i propri valori, la propria storia, ciò che si rappresenta. Tornando alla cronaca, l'incontro tra Cannito e Damiani è stato positivo, benché interlocutorio. Ora il neosenatore riferirà i suoi prima di prendere una decisione, resta sul tappeto il problema dei simboli. Il Partito Democratico ha invece riunito ieri una segreteria allargata alle altre cariche istituzionali. In questo caso il problema del simbolo non si porrebbe, visto che lo statuto del PD è impedire che ci si possa presentare come lista civica. Scopo dell'incontro? Ragionare sul da farsi, e cioè se ritirare la candidatura del dottor Chelsea e convergere su Cannito, naturalmente in modo alternativo, al centrodestra, oppure andare allo scontro. L'esito è stato insulso, come da tradizione. Alla fine si è dato mandato al segretario cittadino De Fazio, a quello provinciale Di Fazio e ad un inutile rappresentante regionale, di rincontrare tutti per tentare un'ultima mediazione. Tempo perso. Cannito è in campo e non si ritirerà, né si capisce perché dovrebbe farlo. Certo la politica può riservare qualunque sorpresa o ribaltone, ma la sensazione netta è che per il PD il morto sia già alla chiesa.